Andrea Allegri vicepresidente di Ance Verona. Coordino la Commissione Innovazione e Tecnologia. All'interno della Commissione Innovazione e Tecnologia è nato ormai dieci anni fa il progetto CQ Costruire in Qualità. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto che coinvolge tutta la filiera del mondo delle costruzioni intesa come imprese di costruzioni quindi noi di Ance, il mondo dei professionisti quindi l'ordine degli ingegneri degli architetti i geometri e anche i periti e anche diciamo gli impiantisti le aziende che forniscono il materiale i servizi eccetera tutto questo perché perché una decina d'anni fa venivamo da un periodo in cui nascevano nuove esigenze nuove richieste per la qualità degli edifici che dovevamo costruire a iniziare dall'efficienza energetica a seguire con l'antisismica venivamo da periodi di grandi terremoti di grandi devastazioni terremoto dell'Aquila e terremoto dell'Emilia Romagna eccetera e quindi bisognava trovare una maniera per affrontare i temi dell'edilizia e del mondo delle costruzioni con un'elevata competenza nuove competenze e un linguaggio comune che diciamo potesse fare in modo di capirsi al volo con le persone che entravano nel processo edilizio. Il periodo che abbiamo affrontato a seguito della pandemia è stato un periodo piuttosto difficile all'inizio è stato molto difficile ovviamente per tutto quello che è accaduto anche umanamente ma dal punto di vista delle aziende innanzitutto si è dovuto adeguare il modo di lavorare alle nuove richieste di sicurezza e di tutela delle persone che lavoravano nei cantieri e comunque nel mondo dell'edilizia quindi grande burocrazia grande lavoro legato ai protocolli da approfondire e anche da applicare nei nostri cantieri e nei rapporti con con i professionisti e tutte le aziende che lavoravano nel nostro settore. Dall'altro canto c'è da dire che poi una volta acquisito questo sistema di lavoro si è potuto invece avere un feedback legato a quella che è l'esigenza delle persone che vogliono vivere nelle proprie abitazioni post pandemia. Siamo stati costretti a vivere all'interno delle nostre mura per molto tempo questo da un lato ci ha come dire fatto apprezzare l'idea di avere quattro mura e un tetto dove stare e quindi un senso di protezione. Dall'altro ci ha suscitato delle esigenze che sono legate invece alla possibilità di avere spazi all'aperto, di avere luce, di avere giardini, di avere terrazze. Quindi se vogliamo trovare un aspetto che ha una certa incidenza sul nostro settore è proprio il fatto che le richieste che ci vengono fatte negli ultimi tempi sono un po' diverse da quelle che venivano fatte prima, quindi più spazi all'aperto, stanze più grandi, possibilità di vivere fuori all'aria aperta e al sole e quindi un modo diverso di progettare gli edifici e di realizzarli. Parlo come associazione costruttori però parlo anche come operatore del settore che è sul campo praticamente tutti i giorni. Ci siamo resi conto già a tempo fa ma anche più che mai adesso che per poter realizzare edifici performanti sotto vari punti di vista, come dicevamo prima, il discorso efficienza energetica, il discorso antisismica, il discorso comfort abitativo, per realizzare edifici con queste caratteristiche c'è da approfondire, da studiare, da metterci impegno, non è per tutti, questa è la cosa importante, non tutti sono capaci di fare tutto, quindi secondo quello che noi abbiamo individuato come percorso futuro cerchiamo di proseguire sulla via tracciata dal progetto CQ e quindi elevare le competenze delle nostre maestranze, dei nostri collaboratori, dei professionisti e di chiunque lavora nel mondo dell'edilizia perché si debba avere la cognizione che le costruzioni al giorno d'oggi sono complesse, sono complicate, non sono impossibili ma devono essere affidate sia nella fase progettuale sia nella fase realizzativa a chi ne ha le competenze. Credo che la professione di imprenditore del mondo dell'edilizia sia una professione estremamente soddisfacente e che dà la possibilità di realizzare concretamente anche le proprie convinzioni e anche i sogni di chi invece viene da noi e questo è il faro che dobbiamo seguire, la luce che dobbiamo seguire. Ci sono chiaramente delle difficoltà però il nostro obiettivo, il mio obiettivo nel futuro è quello di cercare di essere competente su cose dove non tutti sono competenti e quindi che se uno ha la possibilità o l'idea di realizzare un certo tipo di edificio sappia dove deve andare. Ci sono obiettivi che poi derivano dalla pandemia ma che abbiamo già affrontato anche nel passato in tempi non sospetti e quindi puntare sul mettere di nuovo l'uomo al centro della costruzione, non più il metro quadrato in più, il centimetro in più, i dieci centimetri in altezza in più, ma l'uomo come obiettivo del benessere e del comfort delle abitazioni che andremo a realizzare. Ci sono mille esempi da fare, uno di questi è il fatto di tenere presente a seguito della pandemia ma ripeto non solo a seguito della pandemia, controllare l'aria che respiriamo all'interno degli edifici soprattutto. Ci sono molti esempi di edifici realizzati con questi principi e stiamo cercando sia come associazione sia come progetto CQ di come dire espandere sempre di più questa filosofia che è una filosofia rivolta al benessere delle persone che abitano gli edifici che costruiamo.